Carissimi amici, benvenuti, bentornati in questo nuovo episodio di Psicologia e Tecnologia oppure di Essere Genitori nell'Era Digitale, che ormai sta diventando quasi un sottoprodotto del primo, ma ovviamente non con minore dignità, ci mancherebbe. Ho veramente grandissimo piacere oggi di portarvi, di presentarvi il dottor Roberto Pozzetti, psicologo, psicoterapeuta, psicanalista lacaniano, membro della scuola di psicanalisi lacaniana, professore a contratto della LUDES di Lugano e inoltre anche presidente dell'associazione In Out. Si occupa, tra le altre cose, anche di bambini, adolescenti e di digitale, quindi il rapporto che i bambini e gli adolescenti hanno con il nostro digitale e per cui chi meglio di lui potrebbe inaugurare anche questo periodo di interviste. È un grandissimo piacere e onore, ho avuto la possibilità di collaborare con lui per progetti, meeting, conferenze, per cui insomma sono sicuro che sarà una bella intervista. Innanzitutto benvenuto Roberto. Grazie Ivan per l'invito, è un piacere collaborare con te. Abbiamo già lavorato bene appunto, come dicevi, in alcuni progetti e voglio ricordare il libro collettivo di cui siamo entrambi coautori, Amori 4.0, viaggio nel mondo delle relazioni, al tempo appunto del digitale, al tempo di internet, che credo sia un testo attuale di cui possiamo magari anche dire due parole oggi stesso, in riferimento ai legami nel mondo digitale. Grazie per l'invito. Poi ne potremmo sicuramente accennare perché noi poi in realtà ci siamo conosciuti anche un po' grazie a questo progetto, quindi è giusto attribuirgli il giusto credito, poi ne abbiamo anche collaborato per la stesione di alcuni capitoli, ma comunque ne parleremo in seguito. In particolare oggi parliamo di un tema che mi verrebbe da dire molto interessante, anche se dal titolo non sembra, ossia la noia del digitale. Dico sembra interessante, ma in realtà parliamo di noia, anche la noia può essere interessante. In particolare mi ha molto colpito un articolo, Roberto, un tuo articolo che è scritto su Agenda Digitale, che mi ha dato un po' di input, l'insight per appunto questa intervista. Ossia, andiamo un attimo insieme, così lo spieghiamo anche ai nostri amici che ci seguono. Che cosa intendiamo per noia, per digitale, la noia nel digitale? Perché sembra quasi un controsenso. Noi vediamo sempre, soprattutto per ciò che riguarda i ragazzi, ma non solo, perché anche noi adulti siamo coinvolti al 100% in questo processo, però parlando di ragazzi soprattutto, noi li vediamo sempre sui cellulari, sempre costantemente alle prese con questi diabolici dispositivi. E allora ecco che non possono farne a meno, allora ecco che noi adulti tendiamo a pensare che in realtà loro vanno lì per divertirsi, che sicuramente ci sta come discorso, sicuramente c'è anche quello. Però viene difficile a noi pensare al fatto che un ragazzo potrebbe anche annoiarsi nel digitale, che è una cosa che sto anch'io notando in questi giorni in cui comunque i ragazzi stanno a casa, per cui certo sì, hanno le video lezioni e tutto quanto, però comunque trascorrono molto tempo online, o almeno anche prima dell'inizio delle video lezioni, prima che le scuole riuscissero ad organizzarsi, comunque i ragazzi passavano tutto il giorno in qualche modo davanti ad uno schermo. Ed è stato anche interessante notare alcuni docenti, ma poi anche alcuni genitori, che mi riportavano anche stupiti il fatto che il loro figlio aveva preso a noi a Instagram, aveva preso a noi a TikTok e così via. Quindi mi piacerebbe in questo episodio riuscire anche a spiegare ai genitori, ma non solo, anche ai docenti, agli altri professionisti del settore, perché può veramente avvenire questa cosa, come può avvenire. Però partiamo dall'inizio, ok? Allora, che cosa intendiamo per digitale, che cosa intendiamo per noia e che cosa intendiamo per noia nel digitale? Intanto, a livello etimologico, possiamo dire due parole su questi termini. La noia c'era dapprima nel digitale, chiaramente non è qualcosa che hanno inventato recentemente. La noia è qualcosa di cui parlavano anche i latini. Io mi ricordo al liceo, ho fatto liceo scientifico, con i docenti e con i compagni parlavamo della noia. In un riferimento a autori come Lucrezio, come Seneca, che erano già autori interessanti, l'alternarsi di ansia e noia. Se uno rimane sempre in casa, fa sempre la sua daily routine, la sua giornata quotidiana tradizionale, fa sempre le stesse cose con molta reiterazione, tende ad annoiarsi. Nella comfort zone ci si annoia. Se si esce dalla comfort zone, si va a sperimentare, esplorare il mondo, si va a scoprire qualcosa di nuovo, ci si espone di più all'ansia. Per cui l'esistenza, secondo alcuni autori già latini, è un alternarsi di ansia e noia. Si alternano l'ansia e noia. Per cui noi potremmo dire che bisogna trovare anche un giusto equilibrio tra l'ansia e la noia. Mettersi troppo in situazioni inedite, troppo nuove, non familiari, diventa perturbante e crea, anzi, angoscia. Stare troppo nella consueta routine, nella monotonia, tende ad annoiare. La noia c'era già. Guarda, ti fermo un attimo, perché in effetti, hai detto una cosa interessante, a me viene in mente, non so se c'entra, perché i miei ricordi del latino si fermano alla quinta liceo, quindi ormai sono un po' di anni fa, esatto. Allora, mi viene in mente, ad esempio, il concetto di ozium latino, che se non ricordo male, è completamente diverso dall'ozio come lo intendiamo oggi. Oggi solitamente, soprattutto in una società che spinge all'iperproduttività, una società di oggi, delle 20, per cui noi oggi intendiamo per ozio il fatto di non fare nulla, ma in senso negativo, quindi non produrre. Però a me viene in mente che già i latini appunto avevano il concetto di ozium, che era un po' differente, giusto, rispetto a quello attuale. Sì, cioè, per cui il far niente, oggigiorno, in una società altamente produttiva, competitiva, performante, ha un'accezione negativa, mentre in altre epoche storiche, in altre società, poteva avere un'accezione più positiva. Poi rispetto ancora alla noia, a livello etimologico, il termine noia deriva da inodio, a proposito del latino, inodio. Si coglie di più in francese, dove si dice anui, è scritto enui, inodio, per cui è qualcosa di odioso la noia, non è una sensazione piacevole la noia. Però poi, discutendo, vedremo che ci sono anche tanti svolti di opportunità nella noia. Invece rispetto al digitale, da che cosa deriva come termine digitale? Etimologicamente? Beh, etimologicamente, digitale? Beh, allora, io che ho visto i computer nascere, praticamente, ho 44 anni, però comunque è da quando ero all'elementare che seguivo il discorso, quindi diciamo che forse mi mancano le schede perforate, anche se so che cosa sono, però da lì in poi direi che ci sto. Allora, sicuramente digitale, nel caso dell'informatica, io lo vedo come un termine tipicamente anglosassone, che deriva quindi da digit, ossia le cifre, penso al codice binario, uno zero, considerando anche che comunque, in effetti, noi lo sappiamo benissimo, il sostrato, almeno per il momento, il sostrato di qualunque sistema informatizzato è uno zero. Sì, adesso stanno studiando i computer quantici, però, che prevedono anche le vie di metodo tra uno e lo zero, però comunque questo è un altro discorso, insomma, questo è ancora da capire, però sicuramente io lo faccio risalire al termine digit anglosassone. Infatti, anche in francese, anche in francese, digitale si dice numerique, si dice numerique, no? Per cui qualcosa di numerico, della cifra, no? Infatti, recentemente, a novembre 2019, venne svolto un convegno sull'utilizzo dei dispositivi digitali nella relazione educativa e nella cura, nel trattamento dei bambini e dei ragazzi autistici e il titolo del convegno svolto all'università di Rennes, che è la più grande città universitaria del nord della Francia, dopo Parigi, il titolo del convegno fu sul numerique, del numerique d'anotisme, no? Per cui, effettivamente c'è qualcosa che ha a che fare con la cifra, no? Già Lacan, nel 55, fece una conferenza all'ospedale Saint-Anne, l'ospedale Saint-Anne, che è l'ospedale nel centro di Parigi, dove, tra l'altro, anche il mio analista e il mio supervisore hanno lavorato, sulla cibernetica e, appunto, parlava di questo, della dimensione sintattica nel linguaggio binario, 0-1, no? Le due cifre, no? Poi c'è da dire anche che digitale arriva anche da digitus, dal dito in latino, no? Digitus. Infatti, quando noi parliamo del digitale, cosa facciamo? Ci troviamo a digitare, no? Digitiamo con il touchscreen, un po' come si faceva anche tempo fa, ora si fa meno, almeno i ragazzi lo fanno meno, con lo zapping, con la televisione, no? Ci si metteva sul divano e il telecomando a fare zapping, no? Con il dito si digitava, per cui credo che anche questi aspetti etimologici siano interessanti per cogliere qualcosa di che cos'è il digitale e di qual è la funzione che ha. Perché c'è anche questa funzione di utilizzare la cifra, utilizzare il numero, utilizzare il dito. C'è anche una dimensione, diciamo, di padronanza, no? Attraverso il digitale, noi siamo padroni della televisione, infatti si dice il termine telecomando, oppure con il cellulare riusciamo a padroneggiare con certi meccanismi la realtà. Questa è una funzione che ha il digitale. Ma c'è tutto il rapporto con la noia. Cioè, io credo che la grande questione che ci dobbiamo porre sia questa. La noia, e l'avevo scritto appunto anche in questo articolo in agenda digitale, la noia è ciò che causa l'utilizzo del digitale o è il digitale che causa la noia? Perché c'è una domanda su questo, no? Alcuni, secondo me, con un'accezione un po' moralistica, dicono, i ragazzi sono sempre annoiati perché stanno tanto tempo davanti al digitale, davanti agli schermi, no? Questo screen time infinito degli adolescenti, ormai anche dei bambini. Per cui dicono, è perché si trascorre molto tempo davanti agli schermi, davanti ai dispositivi digitali, che i bambini e i ragazzi sono sempre annoiati. A me sembra più ragionevole il contrario, no? Cioè, io credo che sia più un tentativo di guarigione, un tentativo di risoluzione dei problemi della noia, per esempio, quello dell'uso del digitale. Non credo che sia il digitale ad eternare la noia. Non a caso la noia c'era già i tempi latini, il digitale non ce l'aveva, no? Certo, mi viene in mente, come hai detto giustamente tu, ed è anche il discorso che faccio sempre io, anche quando porto, quando faccio le conferenze, oppure nei miei momenti di formazione, anche con non solo i docenti, ma anche poi con i genitori, soprattutto in questo caso, con i genitori che vivono sul campo ciò che vivono appunto i loro figli, è il fatto che comunque in realtà noi la tecnologia, cioè la tecnologia di oggi, la dobbiamo inserire all'interno di un continuum, perché se noi andiamo a vedere tecnologia, noi per tecnologia in genere ormai intendiamo gli ultimi ritrovati, l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, le auto senza pilot, senza autista e così via. Ma se noi andiamo a vedere, la tecnologia in realtà è nata fin da quando l'essere umano è iniziato a maneggiare i primi attrezzi, o forse addirittura anche prima, perché se noi pensiamo alla tecnologia come ad un qualcosa che serve a noi per, per virgolette, aumentare le nostre capacità, che prima magari hanno le capacità fisiche, per cui io con una zappa o una pala riesco meglio che scavando con le mani, molto semplicemente, oppure con una freccia riesco a decidere a cacciare meglio l'animale che non dovendolo fare a mannudo a sassate, presto poi ad un certo punto diventa anche un aumento delle capacità cognitive, ma ad esempio pensiamo già solo alla scrittura. Alla fine la scrittura che cos'è? Anziché, ovvio, la scrittura è un universo molto più complesso, sicuramente, però per ciò che riguarda il nostro discorso, di fatto comunque la scrittura ci ha permesso di ricordare più cose. Perché? Perché noi aumentiamo le nostre capacità cognitive, in questo caso le nostre capacità mnemoniche e così via. Quindi sicuramente, venendo a un discorso molto più recente, io immagino ad esempio quando noi, alla nostra età, quindi in tempi, io definisco sempre i tempi non sospetti, ci annoiavamo appunto davanti alla televisione. Come detto tutto, è citato benissimo lo zapping, ad esempio. Quindi potremmo dire che il telecomando ha sicuramente alimentato questa cosa, perché ancora più nel telecomando devi comunque alzarti per andare a cambiare canale. Quindi già questo è stato un cambiamento comunque. Io invece, tant'è vero che, sì, il telecomando rende bene l'idea, in inglese è un remote control, cioè controllo da remoto, perché io appunto controllo il dispositivo da lontano, non mi ci devo neanche avvicinare. E andando avanti poi, andando avanti lungo questo continuum, diventa anche interessante notare, riallacciandomi velocemente al discorso del digit, quindi del termine, dell'etimologia del digitale, notare come il termine digit, digitale, sia nei tempi moderni, sia nato per un discorso appunto numerico, 1-0 e tutto il codice che sta dietro i nostri sistemi informatici, presto diventa però un termine che entra in contrasto con analogico, per intendere il digitale è quello freddo 1-0 senza sfumature, che sottointende senza umanità alcuna, mentre invece abbiamo poi l'analogico che è più caldo, perché non è solo 1-0, ma c'è tutte le sfumature, le gradazioni tra l'uno e lo zero, o addirittura oltre. Però poi, andando avanti, digitale in effetti diventa il touchscreen. Il touchscreen, ormai noi in effetti, se noi andiamo a vedere, soprattutto i nostri ragazzi, che si abitano già con i cellulari, con i tablet, e i tablet stanno diventando sempre più simili ad un computer, possiamo ipotizzare che anche il discorso del mouse o della tastiera, certo, rimangono comunque degli strumenti utili, che si useranno ancora probabilmente per un bel po', ma sicuramente perdono la loro centralità. Tant'è vero che ormai, tante volte, noi usiamo la dettatura vocale, per ad esempio, non solo mandare i messaggi vocali, ma anche per dettagli. Io conosco personalmente iscrittori che si aiutano con la dettatura vocale davanti ad un computer, anziché usare la tastiera. Si mettono gli auricolari, attivano la dettatura vocale, e sì, poi dopo li rifiniscono con la tastiera, però comunque diventa una parte importante. E anche sarà interessante nel vedere poi come si stanno evolvendo questi sistemi con i comandi vocali. Perché ormai stiamo andando sempre più verso una situazione in cui noi, i nostri dispositivi, li controlleremo attraverso la voce, neanche più attraverso i gesti. Quindi questo discorso del digit, digitale, sarà interessante vedere come si sposterà. Trovo anche molto interessante il discorso della noia come un qualcosa da risolvere, tra virgolette, un sentimento, una sensazione nostra interna, interiore, che genera quella, potremmo dire, quella forma di ansia, come l'hai definita tu, poi correggimi se sbaglio, se sto interpretando bene il tuo pensiero, quindi quella forma di ansia che forse, in qualche modo, è proprio quella che può spingerci verso un movimento. Penso ad esempio alle ultime ricerche, anche sì, ricerche molto recenti, per cui ad esempio anche Instagram ad un certo punto rischia di diventare, risultare noioso, soprattutto in questo periodo in cui alla fine molto spesso, soprattutto anche da parte degli influencer, molto spesso i contenuti pubblicati sono alla fine sempre gli stessi. Allora, se io penso che noi, anche fisiologicamente parlando, noi non reagiamo in base ad una situazione ordinaria, noi agiamo per picchi, sono anche i nostri recettori proprio a livello di fisiologia, ossia se noi ci sediamo su una sedia, sentiamo che siamo seduti su una sedia, dopo un po' perdiamo questa sensazione, se ci muoviamo la ritroviamo, molto semplicemente. Di conseguenza anche i picchi di eccitazione sono necessari per farci provare l'eccitazione stessa. Io a volte esagero, ma neanche tanto, quando in modo molto provocatorio dico anche a Gardaland dopo un certo tempo rischi di annoiarti, perché dopo un po' le gioste sono sempre le stesse. E quindi ecco che... Certo, diciamo che sicuramente la noia è collegata con la reiterazione di un'attività, o di una passività. E invece l'elemento nuovo è ciò che magari mette ansia, ma ci dà anche quell'ansia positiva che ci dà uno slancio. Questo è sicuro, è sicuro al 100%. Lacan diceva questo, che la noia è desiderio di un'altra cosa, è desiderio dell'altrove. Quando noi ci annoiamo, questo lo sosteneva anche Fenichel, uno dei primi psicanalisti, non abbiamo ben chiaro qual è l'oggetto del nostro desiderio. C'è il desiderio, c'è una spinta pulsionale, c'è una spinta verso il movimento, dinamica, ma non è ben chiaro dove. È più importante uscire dal contesto in cui ci si trova, uscire dal luogo in cui ci si trova, che fare qualcosa di ben preciso. La noia, la vediamo appunto nei ragazzi, quando si annoia dei ragazzi? Nello restare tanto in casa e nello stare tanto ad ascoltare le lezioni dei docenti a scuola. Ma lì non c'è solitamente una costruzione ben precisa, perché se uno, facciamo questo esempio, uno sta a scuola, ma mentre a scuola ascoltare la lezione è annoiato, nella sua testa fa delle fantasie erotiche, lì non c'è la noia, la noia si evolve e diventa desiderio ben preciso. Invece la noia è un desiderio di qualcos'altro, dovunque, altrove, bisogna essere dovunque, altrove, ma non nel luogo in cui ci si trova. La noia è collegata con il tempo, mi annoio in questo momento, non vedo l'ora che finisca questo momento per poter andare altrove e fare qualcos'altro. Per cui la noia è un desiderio, però diciamo così, abbozzato, a uno stato iniziale, germinale che non si è ancora strutturato bene e perché? Perché sta cercando un oggetto. Per questo io credo che il digitale sia portentoso, sia formidabile per i ragazzi in questi termini. Poi magari si annoiano anche nel digitale, cambiano tipo di social, non utilizzano più Instagram, utilizzano Snapchat o TikTok, però comunque, il digitale cosa ci permette di fare? Di cercare un oggetto. Io vado con il touchscreen e cerco l'oggetto che mi piace. Ne cerco uno, poi un altro, un altro ancora. Lo vediamo con la pornografia, no? Con la pornografia si cerca un video, poi un altro, un altro ancora. Lo si vede nelle ricerche su Wikipedia. Uno va su Wikipedia, cerca una cosa annoiato, poi da lì c'è l'ipertesto che lo rinvia da un'altra parte e va avanti così magari ore a stare nello screen time. Perché? Perché, lo vediamo in particolar modo nei ragazzi, vi è la ricerca di un oggetto. Non c'è nel soggetto annoiato un oggetto ben preciso che possa dare un nome, dare una strutturazione, un'articolazione alla spinta pulsionale. Quando si arriva a strutturarla in modo più preciso, allora non c'è più la noia. Semmai c'è la nostalgia di qualcosa che si è perduto, perché c'è un oggetto ben preciso. Nella noia c'è una difficoltà a ritrovare l'oggetto del desiderio. Qui rimane un desiderio un po' vago, diciamo così, no? Per significare un desiderio un po' vago, quello della noia. Sì, trovo molto interessante quest'idea del vago, perché in effetti mi torna molto, anche con gli esempi che hai fatto tu, ad esempio, parlando ad esempio dei siti che offrono materiale pornografico, hai descritto bene, sinteticamente, la tipica, almeno la tipica esperienza di utilizzo dell'utente tipo di questi portali, ossia contano molto ad esempio le anteprime, che non sono le anteprime, nel senso io apro il video, ma sono quei 5-10 secondi che io vedo semplicemente posizionando il cursore su quel video. Quando io ho nella home page tutta la griglia di tutti i video, io poi sposto il cursore su uno di questi video e mi parte già una mini clip che dovrebbe darmi un'idea di quello che andrò a vedere nel video, perché l'idea è se poi in qualche modo ti ispira, ti piace, tu allora lo apri. Ok, invece si nota tantissimo questo fenomeno per cui io appunto utente tipo vado a vedere le varie anteprime in questo modo, poi magari trovo dei video che potrebbero interessarmi e li apro senza ancora consumarli, magari apro 20, 30, a volte anche 40 schede del browser se sono appunto ad esempio su computer, quindi li apro tutte e solo poi magari faccio anche ricerche per parole chiave e così via e solo poi al termine forse consumerò uno di questi video, quindi questo sicuramente, ma la stessa cosa succede spostandoci in un altro territorio anche su YouTube ad esempio ed è uno dei motivi per cui le anteprime organizzate così funzionano, questo anche da un punto di vista della user experience design, quindi il disegno dell'esperienza utente, aumentano l'engagement, aumentano le visualizzazioni o più in generale aumenta la probabilità che la persona, il visitatore spia sulla piattaforma. Ad esempio penso anche alla tecnica del infinite scrolling, ossia lo scrolling infinito senza dover cambiare pagina, è stato proprio provato attraverso analisi, ormai anni di sperimentazioni che se la persona sta più sulla piattaforma se le do la possibilità appunto di scorrere anziché prevedere un po' come il Google di una volta beh anche ancora oggi oppure prevedere le pagine per cui uno, due, tre, quattro delle schermate. È vero che io ottengo razionalmente lo stesso identico risultato per carità però è stato provato che attraverso lo scrolling infinito le persone consumano più contenuto all'interno della piattaforma o perlomeno rimangono di più sulla bacheca quindi penso ad esempio a Facebook ma non solo tutti i social network quasi tutti in realtà sì comunque molti presentano questa questa funzione e non è un caso comunque è anche interessante il discorso della noia che è differente dalla noia che poi io in qualche modo realizzo con un oggetto o un altrove come hai detto tu penso ad esempio al ragazzo facendo l'esempio della scuola ragazzo che si annoia di fronte a una lezione e magari di nascosto guarda dei video sul cellulare o che ne so legge una rivista oggi siamo un po' anacronistico però può capitare o magari manda dei messaggi di carta se vogliamo ad altri compagni della classe di tipo cosa facciamo oggi e via di questo passo quindi è un po' diverso questo anche l'università succede mi viene anche in mente mi viene anche in mente l'idea del cazzeggio sì ok che cosa ne pensi sì sono d'accordo anche l'università questo succede mi è capitato per esempio non tanto a Lugano dove insegno ma mi è capitato mi ricordo una volta invitato da un amico a fare lezioni a Bologna c'erano 70 80 allievi e c'erano diverse che chiaramente si erano messi davanti alle loro sedie gli zainetti e stavano giocando dei giochi dietro i zainetti quindi queste cose succedono anche con ragazzi ultraventenni all'università ragazzi che magari hanno 23 24 anni questo è qualcosa che appunto nelle scuole superiori accade più frequentemente o anche alle medie senza dubbio però è chiaro c'è in fondo una divisione tra due aspetti soggettivi no? cioè c'è il piano della vita reale in cui magari c'è di più la noia e c'è il piano della vita cosiddetta virtuale cioè diciamo così c'è il piano della vita offline in cui c'è la noia ma ci si sta in quel momento e nella vita online in cui si cerca invece un oggetto che rilancia il desiderio il punto è lì cioè se il ragazzo che sta scoprendo la lezione nel frattempo fa un'attività online fa un gioco online con altri compagni che magari sono in altre scuole eccetera il ragazzo in quel momento dove è diciamo così più genuino dove c'è veramente la sua soggettività perché alcuni dicono il mondo online è un mondo falso fasullo non è il mondo più importante che è quello della realtà quello offline eppure noi potremmo dire invece il contrario perché è proprio nel mondo online che uno ha un desiderio che uno ha della passione per cui io ho difficoltà ad avere un atteggiamento così moralistico nei confronti di ragazzi che vivono tanto nell'online che stanno su Skype che stanno su Zoom che stanno su Whatsapp fanno le videochiamate questo indipendentemente diciamo dalla quarantena dal confinamento relativo al coronavirus che c'è stato in generale dico cioè comunque già da molti anni vediamo questa dinamica ragazzi che trascorrono tanto tempo nel mondo online e tendenzialmente la lettura della maggior parte delle figure educative ha un'accezione critica ha un atteggiamento critico io stendo a essere così critico invece perché credo che sia qualcosa che fa parte della loro esperienza di crescita formativa poi concerne anche gli adulti ma a maggior ragione nell'adolescenza infatti la collega Sherry Tarkol un collega credo tendenzialmente di orientamento winnicottiano poi con delle lavorazioni proprie certamente non è una winnicottiana integralista però senza dubbio i riferimenti principali sono a winnicott parla di un'area transizionale rispetto al mondo virtuale al mondo online come l'oggetto transizionale dei bambini il peluche la fatina se lo portano a nanna se lo portano all'adilonito se lo portano alla scuola di infanzia così lo smartphone diventa un oggetto transizionale siamo in un mondo in cui l'oggetto è molto importante l'oggetto prevale sugli ideali religiosi politici allora un oggetto come quello dello smartphone o del computer del tablet è un oggetto prezioso perché permette anche di vivere in quest'area intermedia tra realtà e fantasia l'oggetto transizionale è intermedia tra realtà e fantasia nel bambino c'è un'area illusionale transizionale che è al limite tra il gioco e la realtà analogamente negli adolescenti nei giovani c'è molto il mondo degli oggetti come appunto lo smartphone il tablet che si utilizzano online come area intermedia tra realtà e fantasia in cui cercare qualcosa in cui cercare dei legami è un trampolino di lancio dice Sherry Tarkle prima di arrivare all'incontro effettivo infatti quante volte lo vediamo questo i ragazzi che anche i pazienti in una prima fase vengono a raccontarci degli incontri in webcam degli incontri in chat si mettono in contatto trovano sui vari social da facebook a instagram a snapchat trovano qualcun altro con cui cominciano a chattare poi da quella fase passano alla telefonata cominciano a sentire anche la voce parlarsi ascoltarsi poi si fissano all'appuntamento e si incontrano e poi vanno avanti in questi legami allora possiamo considerarlo come un'area di preparazione all'incontro senza avere necessariamente uno sguardo giudicante su queste fasi su queste pratiche mi piace poco il moralismo si infatti e ti seguo perfettamente in effetti si mi vengono in mente anche ad esempio quei videogiochi che prevedono la possibilità di formarsi in gruppi squadre club tribù a seconda del videogioco e poi muovere magari guerra o battaglia contro altre squadre e questo dà avvio a tutta una serie di dinamiche di gruppo molto interessanti che sono un po' quelle che vediamo anche al di fuori quindi leadership le dinamiche dei gregari e via di questo passo quindi l'aderenza al gruppo le norme del gruppo che spesso nascono in modo spontaneo anche tra ragazzini più piccoli magari subito no però poi crescendo giustamente che possono comunque essere la palestra una palestra una non la palestra ma una palestra per ciò che troveranno fuori né bene né male perché poi in queste chat possono avvenire lo sappiamo benissimo anche cose meno meno felici però esattamente come fuori quindi da questo punto di vista tu giustamente dici se non ho capito male del venga il digitale che comunque permette ai nostri ragazzi di sperimentare ciò che sarà poi il loro mondo se vogliamo anche adulto e mi viene in mente senza fare facili parallelismi per carità ad esempio anche il gioco che il bambino fa quando è molto più piccolo in cui gioca a fare l'adulto nel senso gioca a fare le cose che fanno gli adulti quindi immagino tipo la bambolina allora vediamo la bambinetta che porta la bambolina col passeggino ad esempio oppure il bambino che gioca con i camion al di là dei sessismi per carità adesso non voglio entrare nel termine e anche il discorso culturale ci mancherebbe però comunque per ciò che riguarda il nostro discorso alla fine è più o meno la stessa cosa quindi possiamo pensarlo come ad una palestra e trovo anche interessante questo discorso del digitale che permette a noi ma soprattutto ai nostri ragazzi in qualche modo di sopperire a ciò che è venuto a mancare nella società moderna parlo anche proprio in termini di ambienti di vita mi viene in mente ma non solo il digitale è immerso anche prima però ad esempio mi viene in mente tutti quei videogiochi dove comunque ci sono terreni da esplorare e mossi da combattere che in qualche modo rispecchiano un po' quelli che quello che facevano le generazioni precedenti a sonfiggere i draghi mostri solo che le generazioni precedenti lo facevano fisicamente in un bosco vero nel posto della spada magari avevano un ramo che in quel momento era per loro la spada ad esempio man mano che la nostra società o meno parte della nostra società si è urbanizzata e quindi ha iniziato a privare i nostri ragazzi di questi spazi allora in qualche modo questi spazi sono saltati fuori in questo caso non solo per il digitale perché ad esempio io penso anche a tanti cartoni animati anche dei miei tempi quindi completamente fuori dal digitale in cui noi vivevamo le esperienze di esplorazione di compattimento contro mostri e così via attraverso i cartoni animati perché stavamo in casa e non c'era modo di stare fuori perché fuori c'erano le macchine c'erano le persone cattive e c'erano per carità preoccupazioni giustificatissime da parte dei nostri genitori ci mancherebbe però di fatto tutto questo discorso qui ci privava di quelle esperienze che in qualche modo noi abbiamo ritagliate e ce le hanno proposte perché poi c'è un aspetto commerciale dietro però per ciò che riguarda noi le abbiamo comunque ritagliate da quei strumenti e adesso questo al posto della televisione lo fa invece in digital quindi con i videogiochi tant'è vero che alcuni esperti del settore e anche alcuni pensatori moderni hanno già iniziato a definire i videogiochi come le moderne fiabe ah sì appunto infatti questo sì effettivamente questo è interessante considerare il videogioco come un'evoluzione della fiaba davvero un luogo di sperimentazione le fiabe avevano queste caratteristiche in particolar modo nelle bimbe le fiabe da Rapunzel a Biancaneve la bella addormentata nel bosco cioè avevano queste caratteristiche di una storia solitamente sono sempre collegate a una storia in cui i genitori vengono a mancare in cui c'è la matrigna cattiva ci sono un po' degli scenari ricorrenti Harry Potter ha delle caratteristiche analoghe Harry Potter i genitori sono morti per cui solitamente il protagonista della fiaba è un po' come Harry Potter e anche nei videogiochi una trama frequente in queste saghe è quella del personaggio che si trova ad affrontare delle sfide enormi in mani con i vari livelli chiaramente c'è anche tutto un aspetto relativo agli skills aumentare le competenze infatti cosa fa chi gioca i bambini o gli adolescenti che giocano nei videogiochi dalla Playstation da Grand Theft Auto a tutte le varie elaborazioni sui livelli ci sono i vari livelli di competenze di abilità credo che siano appunto degli oggetti moderni parlavo prima di Winnicott di gioco in realtà le forme del gioco cambiano una volta erano le bambole ora non soltanto quello ci sono questi aspetti effettivamente è interessante quello che dicevi tu che molto di queste vicende concerne la formazione della soggettività adulta questo c'è ancora i bambini che si vestono con la cravatta del papà con le scarpe del papà provano a camminare con le scarpe del papà oppure c'era una canzone di Bruce Springsteen che parlava del seguire le orme del papà con piedi lungo la sabbia sulla spiaggia il bambino cerca di fare come il papà la bambina frequentemente cerca di vestirsi come la mamma si mette il rossetto il mascara allora quest'area di gioco credo che sia fondamentale e mi pare che la lettura più ragionevole del mondo digitale nei ragazzi i ragazzi e i bambini appunto altri aspetti più lavorativi la lettura più ragionevole nei ragazzi e nei bambini sia a quel punto di un'area di sperimentazione un'area di gioco un'area in cui cominciare a intessere delle relazioni è qualcosa è qualcosa che sempre più frequentemente si ritrova nel nel nostro mondo no? qualcosa che sempre più frequentemente avviene e dunque c'è quest'area in cui ci si sperimenta non a caso lo vediamo appunto nel mondo del webcam anche per quanto riguarda la pornografia in webcam ma c'è comunque un mettersi alla prova uno sperimentare qualcosa che poi si giocherà nella vita effettiva Jacques-Alain Miller ne ha parlato concludendo un convegno internazionale della situazione mondiale di psicanalisi diceva quanto la pornografia è entrata negli studi degli psicanalisti negli ultimi anni è diventato un argomento cruciale negli ultimi decenni no? veramente lo troviamo tanto come argomento e lo troviamo anche negli adulti ovviamente ma a maggior ragione lo troviamo negli adolescenti il momento di formazione della sessualità infatti parlavo dell'abbigliamento il fatto di vestirsi in un certo modo è proprio un modo per cominciare a fare l'uomo a fare la donna cioè questo quindi quindi possiamo dire che che in realtà i ragazzi ancora prima di annoiarsi perché si sta già ribaltando stiamo già comunque stravolgendo il concetto comune di noia quindi dicevo i ragazzi anziché in realtà non è che si annoino ma sperimentano parlo sul digitale esattamente come noi imparavamo da altre cose ad esempio io mi ricordo benissimo il primo giorno in cui alle scuole medie il ragazzo ripetente che poi aveva un anno in più ma a quell'età un anno in più sembra che sia veramente l'adulto della situazione mi ricordo che ero sì comunque alle medie portò una rivista pornografica che era di suo padre l'aveva trovata in casa ma l'aveva portata e mi ricordo che quella mattina non si riusciva a fare lezioni ovviamente però per dire e lì c'era appunto la curiosità c'era la curiosità di vedere questo mondo adesso questa curiosità viene in qualche modo soddisfatta non so se il termine è giusto dai siti pornografici con tutto quello che si può dire poi delle criticità legate a tutto questo quindi per carità non stiamo non stiamo uscendo da questo non le stiamo negando parliamo semplicemente in questo caso al di là del bene e del male in modo naturale di dinamiche sospendiamo qualunque giudizio appunto cioè senza dire bene o male meglio oggi meglio una volta meglio nel 2020 o meglio 50 anni fa sospendiamo qualunque giudizio rileviamo queste cose ci troviamo di fronte a questi elementi li rivediamo non possiamo negarli e è vero diciamo che quello che in fondo manca un po' oggigiorno è la sublimazione no Freud diceva una delle vie una delle vicissitudini della pulsione è arrivare alla sublimazione per cui anziché arrivare direttamente al soddisfacimento immediato si può giungere a un soddisfacimento senza la scarica sessuale questo può avere pari dignità quello è qualcosa che a volte manca no infatti la noia credo che sia anche una grande occasione per giungere alla sublimazione non è raro che uno dica mi stavo annoiando poi mi è venuta l'ispirazione e ho fatto un video e ho scritto un articolo anche io lo faccio magari mi sto annoiando poi mi viene l'ispirazione e scrivo un articolo o scrivo una parte di un articolo mi viene l'idea oppure mi stavo annoiando poi mi sono messo a fare sport vado a sublimare qualcosa e credo che la noia sia anche una grande occasione in questi termini per arrivare alla sublimazione e gli oggetti digitali sono delle risorse per giungere alla sublimazione perché i ragazzi oggigiorno sublimano tanto in questi termini cioè fare un video per esempio incidere come dicevi incidere un vocale anche la voce incidere un vocale fare delle canzoni come quando lo vediamo nei video su TikTok i video su TikTok sono formidabili in questi termini come esempio di sublimazione perché sembra che stiamo facendo delle scene teatrali no? Allora credo che questo sia interessante cioè in un mondo in cui effettivamente c'è poca sublimazione e se cerchi qualcosa per il godimento immediato lo trovi qualunque cosa la si trova ovunque certo la noia è un momento in cui si può inventare qualcosa si può creare qualcosa dà anche uno spazio di creatività sublimatoria cogliendo un oggetto e dando dignità a questo oggetto elevando il valore di questo oggetto ma ognuno troverà il proprio oggetto non può essere uguale per tutti ovviamente perché ognuno deve farlo sulla base di proprie propensioni di proprie passioni di propri interessi ok sono tutti temi molto interessanti infatti ti avviso Roberto che mi stanno aprendo tante finestre per cui non ti allontanare che poi ti ripiglio comunque per andare avanti il nostro discorso hai parlato tantissime volte di oggetto noi siamo psicologi psicoterapeuti insomma quindi sappiamo benissimo che noi l'oggetto lo intendiamo in un modo un po' differente da come viene solitamente definito con il linguaggio comune giusto riesci in due o tre minuti a chiarire meglio che cosa intendi dire tu o comunque cosa intendiamo noi per oggetto in questo caso sì diciamo allora l'oggetto è qualcosa di importante nella psicanalisi Freud l'aveva soltanto accennato l'aveva bozzato come argomento non l'aveva sviluppato molto ampiamente Freud ne parla in riferimento allo sviluppo psicosessuale soprattutto l'oggetto orale è l'oggetto prioritario nel primo anno di vita i bambini si dedicano a succhiare a masticare poi a due o tre anni invece ci si sposta più sull'oggetto anale per cui trattenere o rilasciare l'oggetto anale è fondamentale come modo di soddisfacimento nei bambini e poi c'è l'investimento maggiore sulla zona fallica sulla zona genitale queste cose Freud le aveva abbozzate però le aveva sviluppate molto maggiormente le aveva sviluppate uno che si chiamava Karl Abraham che fu l'analista appunto di Marilyn Klein e poi Abraham morì a 48 anni morì giovane fu la Klein a portare ulteriormente avanti queste ricerche infatti anche al liceo delle scienze umane al liceo psico socio pedagogico studiamo un po' queste cose ci sono fase orale fase anale fase genitale che c'è l'oggetto buono l'oggetto cattivo il seno materno viene vissuto come oggetto buono oggetto cattivo poi ci si accorge che in realtà è la stessa madre diciamo è sempre lo stesso seno ecco l'oggetto dunque è qualcosa che ha una grande importanza prima parlavo dell'oggetto transizionale ha una grande importanza l'oggetto nella psicanalisi e dicevamo oggigiorno in una tesi per esempio appunto di Jacqueline Miller l'oggetto prevale sugli ideali a volte al punto tale è che l'oggetto schiaccia il soggetto lo vediamo nell'addiction ci ne accorgiamo nell'addiction l'oggetto dell'addiction risulta prevalente infatti addiction arriva da addictus in latino che vuol dire schiavo era l'uomo libero che diventava schiavo perché non aveva pagato un debito allora nell'addictus nello schiavo l'oggetto è talmente importante che uno crede di essere il padrone del mondo con la cocaina ma l'oggetto cocaina schiaccia il soggetto uno crede di essere padrone del mondo grazie alla bottiglia di whisky ma la bottiglia di whisky schiaccia il soggetto cade sul soggetto allora il nostro è un mondo in cui sicuramente ognuno trova i suoi oggetti ognuno ha degli oggetti di elezione per cui l'oggetto è non soltanto qualcosa che non è il soggetto ma è un oggetto che ci dà desiderio oppure godimento sono due cose diverse per cui a grandi linee distinguiamo l'oggetto come oggetto che causa il desiderio e l'oggetto che causa il godimento l'oggetto che causa il desiderio in fondo è il desiderare è l'operazione del desiderare perché non c'è un oggetto preciso non è il mio desiderio è causato soltanto da quell'oggetto non so dalla donna con un certo tipo di seno i vari oggetti cambiano gli oggetti hanno la funzione di suscitare il desiderio oppure invece ci sono gli oggetti di godimento nel nostro mondo è un mondo in cui ci sono tanti oggetti di godimento e lo vediamo anche nella clinica cioè se io vado a vedere la mia agenda e guardo i pazienti che oggetto di godimento hanno per uno la cocaina per un altro l'alcol per una ragazza lo shopping compulsivo per un altro l'oggetto cibo e la bulimia per un altro l'oggetto pornografico abbiamo una serie di oggetti sempre più importanti la nostra clinica è sempre maggiormente centrata sulla rilevanza dell'oggetto a scapito degli ideali ma anche qui sospendiamo qualunque giudizio non è che bisogna tornare necessariamente ai tempi in cui c'era il pater familias sospendiamo qualunque sguardo giudicante e ci accorgiamo di questo che siamo in un'epoca di oggetti e i vari oggetti digitali fanno parte di questo cioè lo smartphone in fondo è un oggetto di questo tipo senza avere né un atteggiamento idealizzante né un atteggiamento moralizzante non sono né angeli né demoni gli oggetti digitali certo mi viene in mente ad esempio quello che vabbè io lavoro ormai con i ragazzi da vent'anni quindi ho potuto vedere anche proprio varie generazioni se andiamo a vedere e comunque confrontandomi sempre con i docenti con i genitori ho visto anche un po' questo passaggio ossia abbiamo sempre di più l'impressione che man mano che arrivano le nuove generazioni e quindi le nuove generazioni siano sempre più orientate al concreto e meno all'astratto all'astratto attenzione intendo dire anche ad esempio la questione di principio se vogliamo anche all'etica mi venne sempre in mente un aneddoto che io riporto sempre perché mi è rimasto veramente quando un ragazzo che seguivo io ormai già qualche annetto fa ormai già quando ad un certo punto mi chiese Ivan ma che differenza c'è tra una ragazza in biancheria intima e una ragazza in bikini perché tanto alla fine mi dicevo così perché tanto alla fine i centimetri di corpo scoperti sono sempre gli stessi in effetti io poi ironicamente dico sì a volte sei più scoperta quando vai al mare che non quando si mancherebbe ma paradossalmente però in effetti questo mi ha fatto riflettere tantissimo poi ovviamente ne abbiamo parlato ci mancherebbe però è stata una una riflessione così spontanea che sicuramente non era provocatoria provocatoria tipica dei ragazzini quando vogliono metterti in difficoltà magari anche solo per scherzo e così via era veramente un sincero e genuino voler capire com'era questa cosa ok e consideriamo che questo era un ragazzo che stava ormai in quel periodo stava ormai terminando le scuole medie non parliamo di un bambino di 5 anni e ancora deve capire come va il mondo insomma un ragazzo di terza media comunque vuoi o non vuoi ovvio non è un adulto però comunque un po' di esperienze le ha avute già può iniziare a farsi una sua idea del mondo e quindi mi ha fatto molto impressione questa cosa qui e in effetti sembra noi abbiamo l'impressione che le nuove generazioni siano sempre meno orientate cioè siano sempre più orientate al concreto solo che appunto noi poi demonizziamo e ci dimentichiamo che in realtà stiamo proprio assistendo ad un passaggio culturale che poi ripeto sempre al di là del bene e del male perché noi non siamo qui oggi per fare giudizi per dare giudizi sulla questione e di fatto sta accadendo questo quindi in questo io inserirei anche ovvio non è l'unica questione però ad esempio penso alle ragazze che magari mandano delle loro foto in reggiseno oppure addirittura se non ho scoperto nude i cambi di una ricarica telefonica non dico che si debba fare non dico che sia lecito farlo ovviamente però mettendomi nei panni di questa ragazza salvo quando è obbligata quando viene raggirata e così via in alcuni casi c'è proprio la coscienza di dire sì è vero è il mio corpo nudo ma tanto chi se ne frega non sto facendo sesso con questa persona non mi sto prostituendo è solamente una foto chi se ne frega intanto mi ricarico il cellulare sì sì ho presente anch'io queste situazioni nella mia pratica clinica appunto con le ragazze innanzitutto ma anche con i ragazzi c'è tutta la questione per esempio della prostituzione online al maschile se ne parla nel film Disconnect che è un film che ha avuto un certo seguito fra gli adolescenti mi piaceva l'esempio che portavi di questo caso no? questo ragazzino di terza media adesso senza entrare nel merito del caso sia perché non è questo il luogo sia perché non lo conosco però credo che ci dia emblematicamente un esempio di una difficoltà contemporanea a cogliere qualcosa dell'ordine simbolico è a livello simbolico che noi possiamo cogliere la differenza tra la biancheria intima e il bikini perché? perché nella nostra società ci sono delle regole simboliche per cui in un certo luogo in spiaggia in piscina ci si mette con il bikini le ragazze si mettono con il bikini e invece in casa in intimità si mettono con la biancheria intima è una differenza di tipo simbolico oggigiorno siamo di fronte a un declino del simbolico l'ordine simbolico è in declino e appunto prevai l'oggetto in particolar modo l'oggetto di godimento anche qui senza come dire rimpiangere i tempi in cui invece le regole simboliche culturali erano fondamentali però non si può non cogliere questa variazione credo che l'essere umano senza qualcosa del simbolico non possa esistere perché l'essere umano ha sempre una tendenza diciamo così un po' la trascendenza ma anche nei termini laici per esempio Sartre ne parlava anche in termini laici non per forza in termini religiosi c'è proprio qualcosa di tipico dell'essere umano che è cogliere un elemento altro che cos'è il simbolico in due parole perché poi potremmo parlarne in un seminario intero ma il simbolico è ciò che è presente in assenza qual è un emblema del simbolico uno dei primissimi libri di Freud che mi trovi a leggere da adolescente era Totem e Tabù Freud porta questo esempio del Totem il padre viene ucciso i fratelli si uniscono uccidono il padre il padre è morto il padre è ucciso e rimpiazzano il padre con un Totem nell'orda primitiva perciò il simbolo è il Totem il Totem sta al posto del padre ciò che era proibito dal padre ai figli poi i figli se lo proibiscono perché c'è il Totem dunque delle regole delle leggi sono la base della cultura dell'ordine simbolico l'essere umano non può fare a meno di questo c'è una regola di civiltà ci sono delle regole di civiltà per l'essere umano non sempre le si colgono bene ti faccio un esempio di quando lavoravo per un anno e mezzo nel carcere di Como parlo di vent'anni fa la mentalità di alcuni detenuti che non riconosce il simbolico mi ricordo un detenuto che diceva questa cosa un detenuto che abitava a Bigizzolo che è una frazione di Cantù e diceva ma mi hanno mi hanno mandato in carcere perché ero agli arresti domiciliari potevo stare nel mio comune e mi hanno trovato in un altro comune ma se io sono di Bigizzolo e vado a Cantù e ci posso andare perché non posso andare in un altro comune cioè non riusciva a capire che un quartiere di questa città è qualcosa in cui si può andare e invece andare in un altro comune non si può andare perché c'era questa regola che era di rimanere nel comune di residenza che gli aveva messo il tribunale di sorveglianza oppure un altro esempio ancora dei detenuti avevano aperto un bar arrivano nel gruppo di parola fanno un gruppo con noi con me e altri operatori che lavoravamo insieme e ci dissero questa cosa quando i carabinieri se la prendono con te qualcosa trovano sempre sono venuti nel nostro bar hanno spulciato hanno spulciato hanno spulciato alla fine hanno trovato non avevamo la licenza ci hanno fatto chiudere il bar cioè la licenza è la prima cosa che bisogna avere allora c'è proprio delle cose basilari dell'ordine simbolico in alcune posizioni soggettive in particolar modo nelle psicosi ma in generale nel nostro mondo sono più carenti per cui gli elementi basilari del simbolico non vengono colti e senza questo si creano dei problemi nei legami sociali perché se uno apre un bar ma non ha la licenza come fa a aprire il bar? Sì trovo trovo molto interessante anzi ti ringrazio per questo assist perché grazie al fatto che hai comunque portato delle esperienze degli esempi che non c'entrano nulla con il digitale al di là della particolarità di quelle esperienze dell'ambiente in cui si sono svolte e così via ci fa comunque capire che questo passaggio verso una maggiore potremmo dire concretizzazione delle nostre vite della nostra realtà della nostra società non è la causa cioè non è la causa di questi non è il digitale ma semmai potremmo è un passaggio che sta avvenendo comunque potremmo semmai dire che sì il digitale è uno di quegli elementi che proprio per la sua natura va poi ad inserirsi all'interno di questo processo un po' ma è anche è anche una forzatura a mettere una cosa simile perché in realtà il digitale appunto per la sua natura evanescente fluida e così via in realtà si inserisce in ogni dove in ogni ambito della nostra vita e della nostra società quindi come si inserisce all'interno dei nostri processi di acquisti dei nostri processi decisionali del nostro intrattenimento ormai della nostra didattica del nostro apprendimento e così via si inserisce anche nella gestione della noia appunto tornando al nostro tema nella gestione del come dicevi tu del simbolico dell'astratto e quindi anche dicendolo un po' più terra a terra delle questioni di principio la morale l'etica e così via Roberto parlando quindi di noia ragazzini che addirittura rischiano di annoiarsi davanti sul loro cellulare quale consiglio potremmo dare ai nostri amici ai genitori o magari anche agli operatori del settore che hanno a che fare con i ragazzi per aiutarli a comprendere il ragazzo che si sta annoiando sul cellulare o comunque nel digitale e magari dei consigli su come aiutarli intanto ovviamente diciamo il consiglio noi lo intendiamo in modo diverso da una predica da una paternale da una pastorale ovviamente perché non è il nostro compito questo semmai lo riserviamo i sacerdoti il nostro compito non è quello di fare i metrapensé che vogliono insegnare alla gente ai ragazzi in particolar modo che cosa è giusto o che è sbagliato ovviamente però un consiglio lo darei in maniera diversa un consiglio ai ragazzi e un consiglio per esempio ai genitori o comunque agli adulti no? Vabbè credo che sia un piccolo consiglio un minimo consiglio intanto per quanto riguarda gli adulti io credo che sia importante dare questo consiglio diciamo quindi cioè di astenersi dall'avere un atteggiamento giudicante nei confronti di ciò che non non è oro corde no? perché in altre generazioni non è proprio le corde di persone più adulte l'utilizzo del digitale infatti vediamo anche pazienti di una certa età nel mio caso pazienti di una certa età che fanno sedute in videochiamata io non le ricevo non le incontro cioè o vengono in seduta o vengono in seduta o interrompono per esempio hanno interrotto alcuni a causa del coronavirus però in una certa età in una certa fascia d'età il digitale non è nelle proprie corde e qui credo che sia innanzitutto importante invece rispettare le modalità nuove che ci sono e il digitale è una di queste uno di queste quindi questo è un primo punto il digitale va accolto accettato senza criticarlo a prioristicamente in una sorta di pregiudizio questo per quanto riguarda gli adulti i genitori e insegnanti per quanto riguarda invece i ragazzi io credo che il consiglio da dare sia anziché quello di fare una cosa precisa di trovare la propria singolarità cioè trovare anche attraverso il digitale perché no soprattutto attraverso il digitale quell'oggetto quell'interesse quella passione che è singolare e che può permettere loro di stare bene nella vita quotidiana di stare bene nei legami con gli amici con le ragazze con i ragazzi trovare qualcosa di singolare andare verso una ricerca singolare perché il digitale può essere usato in due modi in questi termini cioè con una certa massificazione con un certo conformismo per cui tutti fanno la stessa cosa cioè come parlavi tu prima delle gilde dei gruppi dei giochi online ma ci sono fani che non ve ne parano in particolar modo a livello dell'età delle medie tutti i ragazzi che si danno appuntamento tutti i ragazzi della classe della scuola che si danno appuntamento per giocare a un certo videogioco al pomeriggio ecco io credo che non sia vietato però credo che sia preferibile trovare la propria singolarità trovare qualcosa di specifico il digitale può essere usato come un elemento di massificazione come anche la televisione cioè tutti che guardano lo stesso programma televisivo oppure invece ciascuno trova la propria singolarità youtube può essere un luogo massificante o può essere un luogo singolare io credo che la cosa più importante sia trovare la propria singolarità e il digitale ci offre tante opportunità su questo perché se cerchiamo qualcosa la troviamo allora il consiglio ai ragazzi è quello di utilizzare in modo saggio il digitale per cercare la singolarità di qualcosa che fa stare bene ok quindi per gli adulti per gli adulti aiutare i loro ragazzi i nostri ragazzi anche attraverso questo passaggio comunque ricordiamoci che comunque inevitabilmente è normale fa parte dello sviluppo dell'individuo comunque l'individuo passa da un periodo di estrema singolarità tipo il bambino tutto intorno a me poi dopo un po' inizia a scoprire il gruppo per cui il gruppo diventa importantissimo e poi inizia ad acquisire questa questa singolarità certo dipende dall'età dipende dalla maturità anche del singolo ragazzo però ecco quindi un consiglio che possiamo dare ai genitori non solo quindi anche agli operatori del settore è quello di vedere il digitale come un'opportunità e uno strumento come abbiamo detto prima è aiutare i nostri ragazzi a questa forma di individuazione e quindi uscire che è normalissimo però noi li possiamo aiutare ancora di più uscire dal discorso della massa dal discorso del gruppo per acquisire un proprio pensiero critico e in questo l'utilizzo consapevole del digitale anziché ostacolare invece può addirittura aiutare il ragazzo a questa cosa ad esempio scoprire passioni nuove anche laddove magari intorno a lui queste passioni non vengono assolutamente sviluppate però magari attraverso youtube attraverso siti instagram che ne so tiktok può scoprire nuovi interessi oppure può entrare in contatto con altri suoi coetanei che vivono che hanno le sue stesse passioni ripeto anche se il nostro ragazzo magari vive in un contesto in cui nessun altro intorno a lui condivide la stessa identica passione o comunque trovare questo questo aggancio ok Roberto allora dove possiamo trovarti mi hai messo anche curiosità ok retorito io ti conosco però dove i nostri amici che ci stanno seguendo possono trovarti beh intanto io sono reperibile online con un profilo facebook un profilo instagram e linkedin anche e poi sono reperibile nei miei studi di comodi cantù dove ricevo il mio numero di telefono è 031 27 35 57 ok la mia mail bozzettiroberto chiocciola alice.it ok ormai tutti trovano su google ci si trova facilmente comunque carissimi amici non vi preoccupate perché in descrizione trovate tutti questi elementi quindi sono state lì con carta e penna tranquilla non vi preoccupate raccolgo tutto quanto e li trovate in descrizione ma ovviamente se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a questo canale mettete mi piace se vi è piaciuta questa intervista fatelo così anche Roberto contento non scherzo questo è grazie grazie di nuovo Roberto carissimi amici quindi Roberto Pozzetti ripeto in descrizione se avete piacere appunto tutti i contatti per contattarlo per scoprire di più vi ripeto iscrivetevi al canale mettete mi piace ricondividete questo video e noi intanto ci rivediamo alla prossima puntata ciao ciao